Bella ragazzi, dopo il video delle pagelle uscito oggi alle 14, ve lo lascio in alto a destra nelle schede se ancora non l'avete visto oggi, adesso, più nel tardo pomeriggio, siamo qui per parlare delle polemiche sui minuti di recupero di Cagliari e Lazio mi vedete un po' contrariato, perché purtroppo in una partita che è stata bellissima perché Cagliari e Lazio sono le due squadre in questo momento forse che giocano meglio a calcio ma anche un calcio un po' all'inglese, perché noi vediamo sempre al calcio inglese come il modello beh, Cagliari e Lazio è stata una partita che secondo me ha fatto invidia anche partite del calcio inglese è stata una partita bellissima, dal punto di vista tecnico, scusate, ma soprattutto dal punto di vista agonistico anche l'atmosfera dello stadio e della Sardinia Arena che secondo me è fantastica quindi ridursi anche dopo la partita di ieri a parlare dell'arbitraggio, di una polemica che non sussiste perché io questo video avrei potuto anche non farlo, ma l'ho fatto per chiarire le cose perché parlare dell'episodio arbitrali, io nel mio canale l'ho fatto sempre poco ma l'ho fatto perché è giusto, gli episodi arbitrali fanno parte di una partita per me viene sempre prima al campo, poi vengono gli episodi arbitrali però ieri sera io sono rimasto un po' diciamo deluso perché è una partita bellissima che non è stata decisa assolutamente dall'arbitro ma proprio categoricamente no, no, invece ci sono state polemiche anche abbastanza vibranti del Cagliari e non solo, adesso approfondiremo appunto il discorso allora, le polemiche sono state principalmente sui 7 minuti di recupero, ok? che magari io stesso obiettivamente quando ho visto 7 minuti di recupero ho detto ovvio che non è che ho detto no, che sfiga, no, perché stavamo perdendo quindi speravo nel recupero più ampio possibile io poi tra l'altro l'ho visto con un mio amico e gli ho detto vedrai che segniamo alla fine, ma io pensavo un gol, non due comunque è andata benissimo così in effetti lo ammetto anche quando ho visto 7 minuti di recupero cazzo, tanti, non me l'aspettavo, magari 5, no però andando a vedere bene appunto il referto dell'arbitro tutti gli episodi che hanno scaturito, poi hanno portato Amaresca ad assegnare appunto 7 minuti di recupero in effetti, anzi, potevano essere anche di più vi dico la verità, i 7 minuti andando a vedere tutti potevano essere anche 7 e mezzo, 8 perché? Allora, ci sono stati prima del novantesimo 5 cambi quindi 30 secondi per ogni cambio sono 2 minuti e 30 e fin qua siamo tutti d'accordo, la matematica non è un'opinione poi ci sono state 5 interruzioni cioè 5 volte i sanitari sono entrati in campo quindi se noi calcoliamo circa un minuto per ogni interruzione e vi dico che per esempio a Lico Giannis è stato anche più di un minuto però comunque pensateci un attimo tra che entrano i sanitari escono solo quel tempo lì, passano già più di un minuto poi ovvio che senza dei sanitari dovranno intervenire quindi calcolate un minuto quindi 5 interruzioni, calcoliamo un minuto un minuto per interruzioni sono 5 ok? quindi 5 minuti per le interruzioni più 2 minuti e 30 per i cambi sono 7 minuti e 3 e mezzo di recupero ok? 7 minuti e mezzo di recupero però durante il recupero di 7 minuti che ha dato l'arbitro c'è stato un altro cambio del Cagliari quello di, mi pare, di Nainggolan è uscito ed è entrato De Iola quindi altri 30 secondi quindi dovevano essere 8 minuti di recupero la Lazio, mi pare, abbia segnato proprio a 7 minuti e 27 quindi le polemiche non esistono poi è normale fossi io tifoso del Cagliari anche a me rosicherei dispiacerebbe subire non un gol nel recupero 2 gol però tu devi fare mia colpa cioè se tu subisci 2 gol tra l'altro poi regolarissimi senza nessun dubbio arbitrale regolari e devi fare mia colpa purtroppo è colpa tua perché la Lazio si ha giocato meglio dal punto di vista del gioco soprattutto nel secondo tempo ha messo sotto il Cagliari però il Cagliari si difendeva bene invece poi negli ultimi 5 minuti è crollato e ha preso 2 gol evitabili però li ha presi e poi il Cagliari se andiamo a vedere ok? che ha giocato meno a calcio come palleggio della Lazio però ha creato almeno due occasioni nel secondo tempo nitide più quella di Nainggolan nel secondo tempo quindi il Cagliari ha avuto tre occasioni davanti alla porta ma proprio davanti alla porta con Faragò che si è imbellinato passatemi il termine e Simeone che ha sbagliato totalmente gran parte di Simeone ma gli ha sbagliato e Nainggolan che lì forse poteva anche darla Simeone comunque c'è stato il miracolo di Starkocia tre occasioni nitide quindi il Cagliari poteva essere almeno 2-0 non le sfrutti e ragazzi il calcio è così chi se ne ha ragione purtroppo poi non mi viene da dire anche che la Lazio non ha meritato dal punto di vista del gioco perché comunque dal punto di vista del gioco ha giocato meno la Lazio non c'è dubbio poi il Cagliari ha creato più occasioni anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni perché Immobile ha avuto tre colpi di testa uno che è uscito di poco due ribattuti sono state occasioni meno nitide quello lo so benissimo però ragazzi nel calcio abbiamo visto anche partite che tu fai un tiro e vinci una 0 quindi la partita di ieri è stata comunque equilibrata perché poi il Cagliari agiva praticamente solo in contropiede nel secondo tempo e torniamo appunto alle polemiche perché c'è stato diciamo Rajal Angolan che ha pubblicato questa storia che vi metto qua in sovrimpressione in cui appunto polemica ha detto 7 minuti senza che il VAR è entrato in gioco però ragazzi vabbè però avete visto che calcolando tutto potevano essere anche 8 minuti di recupero quindi il VAR non è entrato in scena però comunque le interruzioni ci sono state quindi Cagliari Angolan accetta la sconfitta hai fatto una grande partita in campo non c'era bisogno di andare appunto a polemizzare ripeto su una cosa che non sussiste perché le argomentazioni per sostenere la tua tesi non ci sono ok e poi dice appunto il gol segnato dopo i 7 minuti di recupero ma c'era stato lui ha dato 7 minuti l'arbitro c'è stato il cambio di De Iola quindi sono 30 secondi in più ragazzo mio eh leggi il regolamento ma non è che ci vuol tanto entra un cambio aggiungi 30 secondi ragazzi da che mondo è mondo è sempre stato così e poi vabbè c'è stato il video di gladiatore giallorosso che ci siamo anche sentiti in privato stamattina quindi non c'è nessun dissing assolutamente però io voglio appunto dare un parere sul video che ci sta appunto che lui rosica perché è romanista lo farei anch'io non è che sono contento se la Roma a parte invertita va a vincere al 97esimo però anche lì è polemica inutile perché anche lui dice che i 7 minuti non c'erano ma non c'è bisogno di dirlo avete visto che c'erano secondo appunto poi il referto dell'arbitro e poi dice appunto che la Lazio non ha meritato che lì che là ma chi segna ha ragione cioè mettetelo in testa purtroppo nel calcio chi segna ha ragione e poi ho visto video di persone obiettive come Miro tifoso del calire che anche lui ha detto la Lazio ha comunque meritato di vincere perché dal punto di vista del gioco la Lazio ha giocato meglio ma anche non lo avesse fatto ha segnato ha vinto boh cioè una volta che non ci sono polemiche mi sembra assurdo andarle a creare cioè mi sembra veramente assurdo perché ripeto ieri ho visto tanti video di youtuber e ho visto tanti youtuber per dire è stato un lunedì veramente bellissimo perché poi in Inghilterra si usa giocare a lunedì il Monday Night noi non sempre adesso negli ultimi anni poi con l'Europa League si usa giocare il Monday Night e a volte ci sono partite magari un po' bruttine invece ieri Cagliari-Laccia è stato uno spot per il calcio italiano ok io sono convinto che la Serie A sia in crescita ma non tanto perché la Juve è cresciuta no anche per quello ma le medio-piccole sono cresciute perché una Lazio che comunque l'anno scorso mi arriva a ottava quest'anno comunque quasi lotta per lo scudetto e gioca meglio rispetto all'anno scorso e anche meglio rispetto a due anni fa perché magari segna leggermente meno anche se segna tantissimo lo stesso ma subisce molto meno rispetto a due anni fa poi il Cagliari che fino all'anno scorso lottava per retrocedere ha avuto degli anni abbastanza bui il Cagliari nonostante avesse secondo me sempre una squadra ottima anche per lottare magari per la dodicesima decima posizione quest'anno invece sta giocando bene sta portando veramente il cuore oltre l'ostacco perché il Cagliari adesso è quinto ma era in zona Champions comunque lui è ancora in zona Champions poi comunque l'Atalanta due anni fa l'Atalanta arrivava a sedicesima adesso in Champions League agli ottavi comunque vedo anche la lotta a salvezza io la vedo come dire Brescia Lecce quelle squadre lì rispetto magari a Benevento così le vedo sicuramente più forti più competitive non vedo quest'anno una squadra materasso comunque la spalla è un po' in difficoltà però se la gioca anche a Roma è andata ha perso tra uno ma se l'è giocata e se Paolo Lopez non fa quella parata clamorosa voglio dire quindi cioè io vedo una Serie A che secondo me è migliorata dobbiamo solo migliorare secondo me qua nella mentalità perché ripeto ridursi a parlare solo di episodi ebetrali che non ci sono perché in questa partita non ci sono è innegabile perché non stiamo parlando del gol di Montari in questa partita episodi non ce ne sono oggettivi non ce ne sono è veramente brutto è riduttivo è brutto e fa male al calcio italiano ragazzi questo è sicuro noi influencer noi youtuber dobbiamo secondo me invece passare questo messaggio guardiamo il campo poi le episodi ebetrali si commentano ma prima diamo priorità al campo signori io concludo il video spero che il messaggio sia passato attraverso appunto le mie parole mi raccomando condividete il video iscrivetevi al canale e recuperate il video che è uscito qualche ora fa delle pagelle lo trovate in alto a destra nelle schede il mio instagram lo trovate in descrizione bella